L'unione anglare è diventato un pezzo del paese, anche e soprattutto grazie alla sua famiglia, perché la sua famiglia a un certo punto si è posta una grande domanda, cioè dopo 17 anni in stato vegetativo si può considerare una vita quella che sta vivendo la propria figlia e questa domanda è diventata la domanda del paese che ha iniziato a interrogarsi sui grandi temi, sull'eutanasia, sull'accanimento terapeutico, ritornando ai temi che aveva sollevato in Costituzione una persona che si chiamava Aldo Moro quando si stava la Costituende discutendo di come affrontare questi temi. Questi temi restano in parte aperti, ma se si sono affrontati lo si deve soprattutto al caso Inglaro, a questa ragazza che per 17 anni è rimasta attaccata alle macchine dopo un gran decidente, a questo padre, soprattutto a Beppino Inglaro, che ha saputo portare il tema all'attenzione della comunità, ha fatto anche una grande cosa la famiglia Inglaro, ci ha riproposto sempre l'immagine di una bella ragazza, costringendoci ad interrogarci tutti su cosa sia la vita, intervenì anche il Cardinale Martini per chiedersi cosa fosse la vita, la vita è quella cosa che contiene o non contiene dignità, che merita ad essere vissuta. Perché è un grande merito? Perché non ci sono foto di Eluane Inglaro attaccata delle macchine, non ci sono foto di Eluane Inglaro dentro un ospedale, siamo riusciti a riflettere per una volta sul corpo di una persona che era viva fino al giorno prima, fino a prima di quell'incidente e su una persona invece che non poteva più vivere in quel momento. L'Italia le dovrà comunque molto, perché questa ragazza ha cambiato il nostro modo di pensare, non è ancora riuscito il caso Inglaro a produrre delle leggi degne probabilmente del 2020, perché non riusciamo ancora a affrontare questo tema come dovremmo farlo, però ne stiamo parlando grazie a lei, grazie a questa ragazza che non c'è più e a questa famiglia che ha saputo difendere non solo la memoria della ragazza, ma anche il suo diritto di vivere e poi il suo diritto di morire. Grazie a tutti, grazie a tutti.